In questo video vi andrò ad illustrare come potrete ridurre drasticamente le vostre ore di lavoro settimanale guadagnando comunque moltissimi soldi. Per fare questo vi parlerò di un libro che mi è piaciuto molto e che potrebbe regalarvi alcuni consigli molto preziosi sul mondo del lavoro e dell'imprenditoria e si intitola 4 ore alla settimana di Timothy Ferris. A primo impatto potreste pensare che questo libro vi insegnerà a lavorare solo 4 ore alla settimana per poi passare tutto il vostro tempo libero sdraiati a prendere il sole in spiaggia ma questo non è il reale obiettivo da cercare di raggiungere soprattutto perché ad un certo punto finireste per annoiarvi. Questo libro cerca di spiegare come poter lavorare in modo intelligente e come poter gestire al meglio il proprio tempo per far sì che ogni singola ora passata al lavoro venga retribuita nel modo più proficuo possibile. Ovviamente se fai un lavoro che ami lavorerai comunque duramente e probabilmente lavorerai molto di più di chi fa un lavoro che non gli piace ma dopo aver visto questo video sarai in grado di evitare di fare tutto ciò che non ti piace fare e avrai molto più tempo a tua disposizione per poter inseguire i tuoi sogni qualunque essi siano. Iniziamo facendo un piccolo appunto su ciò che riguarda la pensione. Se fai un lavoro che occupa 8 ore della tua giornata e che in cambio ti offre un po' di relax nel fine settimana probabilmente la pensione costituisce un vero e proprio sogno un po' come una luce alla fine del tunnel del lavoro. Se pensi che alla fine di tutto sarà fantastico arrivare alla pensione purtroppo devo darti una pessima notizia. Infatti una volta che arriverai alla pensione incomberanno su di te moltissimi problemi collegati alla vecchiaia e come se non bastasse finirai per rimpiangere i migliori anni della tua vita che hai dovuto passare facendo un lavoro che non ti rendeva felice e ti privava di tutte le tue energie. Una domanda importante che dovresti farti riguardo a tutto ciò è cosa faresti se la pensione non fosse un'opzione? Come cambierebbero le tue priorità? Faresti ancora quel pessimo lavoro fino alla fine dei tuoi giorni? O cercheresti forse un'altra strada? Prova seriamente a cercare delle risposte a queste domande potrebbe volerci del tempo ma ti aiuterà a cambiare la tua mentalità sul denaro. Io personalmente grazie a questi spunti ho capito molte cose sui soldi e soprattutto ho capito come un singolo euro possa valere molto di più di quello che si crede. Per farti capire meglio questo discorso voglio farti un semplice esempio. Una ragazza di nome Sara guadagna circa 100.000 euro ogni singolo anno mentre il suo migliore amico Alex ne guadagna circa 50.000. Sembra chiaro come Sara guadagni praticamente il doppio di quello che guadagna Alex ma ora andiamo ad esaminare in modo più approfondito come questi due ragazzi percepiscono i loro redditi. Sara per guadagnare 100.000 euro deve lavorare 50 settimane ogni anno e quindi il suo stipendio ammonta a 2.000 euro per ogni settimana. Questa è però composta da 80 ore di lavoro e facendo due calcoli possiamo quindi capire che Sara guadagna 25 euro ogni ora. Anche Alex per guadagnare 50.000 euro all'anno lavora per 50 settimane e di conseguenza il suo stipendio è di 1.000 euro a settimana. La grande differenza però è che lui lavora solamente per 20 euro ogni settimana e viene quindi pagato 50 euro per ogni ora di lavoro. Quindi da questo punto di vista possiamo notare come Alex guadagna il doppio di Sara per ciò che riguarda la paga oraria ma la parte più interessante deve ancora arrivare. Infatti Sara lavora a New York e di conseguenza per poter fare una vita decente deve spendere all'incirca 80.000 euro ogni anno e quindi la maggior parte del suo stipendio non può essere risparmiato. In più non può nemmeno decidere di cambiare città perché il suo lavoro richiede che lei sia presente in ufficio. Invece Alex lavora online e può decidere in modo autonomo dove vivere di conseguenza decide di andare in Thailandia dove può vivere tranquillamente spendendo circa 15.000 euro ogni anno. A questo punto se guardiamo da una prospettiva più approfondita la situazione siamo in grado di comprendere come Alex sia estremamente più ricco di Sara per non parlare inoltre del fatto che ha assoluta libertà per decidere cosa fare nella sua vita. Se ci fossimo fermati solamente a guardare i guadagni annui sicuramente se avessimo potuto scegliere avremmo deciso di intraprendere la stessa carriera di Sara ma basta considerare la paga oraria e la libertà di Alex per capire che il suo stile di vita è estremamente migliore. Proprio per questo motivo ritengo che un euro possa avere un valore diverso in base al metodo, il tempo e la fatica con cui lo si può guadagnare. Un altro ottimo spunto di questo libro riguarda il saper svolgere il lavoro che ci viene assegnato nel modo più efficiente possibile. Moltissime persone sono davvero brave nell'essere sempre indaffarate senza però finire per concludere nulla di davvero profittevole. Queste finiscono per impiegare 8 ore per svolgere un lavoro che ne potrebbe occupare 4 e solamente a causa di una mentalità da dipendente che li spinge ad aver paura di non essere pagati o addirittura di essere licenziati. Lo stesso discorso vale per i lavoratori autonomi che anziché lavorare intelligentemente per 4 ore preferiscono lavorare duramente per tutta la giornata anche se alla fine il guadagno che percepiranno sarà comunque lo stesso. Nel mondo di oggi lavorare meno di 8 ore al giorno viene paragonato ad essere persone pigre ma semplicemente non è vero. Svolgere meno lavori con una scarsa utilità per potersi concentrare su quelli estremamente redditizi non è assolutamente pigrizia. Per molti è un discorso duro ad accettare perché la nostra cultura ci porta a credere che essere impegnati sia molto meglio che essere produttivi ma questa mentalità non farà altro che rovinarti la vita. Nel libro Tim parla di efficienza ed efficacia due parole che in certi casi vengono usate come sinonimi ma che sono profondamente diverse. L'efficienza rappresenta la capacità di svolgere un compito nel modo migliore possibile indipendentemente dall'utilità di quest'ultimo. Mentre l'efficacia rappresenta la capacità di svolgere le mansioni più utili al raggiungimento del tuo obiettivo finale. Per esempio il miglior venditore porta a porta è efficiente in quanto non spreca tempo e cerca di proporre i propri prodotti al maggior numero di persone possibili ma allo stesso tempo è completamente inefficace perché solo poche persone accettano di acquistare i suoi prodotti. Infatti potrebbe vendere molto di più cambiando metodo per poter promuovere il suo lavoro per esempio utilizzando delle email o sfruttando i social per farsi pubblicità. Questo lo porterebbe a vendere molto di più e a raggiungere quindi il suo vero obiettivo. Quindi prima di tutto cerca di essere efficace e solo in seguito preoccupati di essere il più efficiente possibile. Un altro concetto fondamentale invece fa riferimento alla legge di Pareto. Questa legge stabilisce che l'80% delle conseguenze derivano solamente dal 20% delle cause. In poche parole significa che il 20% dei tuoi sforzi producono l'80% dei tuoi risultati ma allo stesso tempo è anche vero che se vuoi ottenere un ulteriore 20% dei risultati dovrai utilizzare un ulteriore 80% del tuo lavoro. Chiaramente la scelta migliore se non si vuole impiegare il 100% del proprio tempo al lavoro è scegliere di individuare il 20% delle azioni che compiamo e che ci forniscono l'80% dei nostri risultati. In questo modo saremo in grado di concentrarci solamente su ciò che è raramente produttivo e soprattutto non ci sottrae troppe ore ogni giorno. Ma se volete ridurre ancora di più le vostre ore lavorative senza però rinunciare a degli ottimi guadagni dovrete imparare ad estenalizzare parte del vostro lavoro. Facciamo finta che tu abbia un'attività che ti consente di guadagnare 50€ ogni ora ma che comporta un lavoro molto faticoso da svolgere e che occupa tanto tempo. A questo punto hai due scelte. Fare comunque il lavoro per conto tuo e guadagnare 50€ l'ora oppure trovare qualcuno che sia disposto a lavorare al tuo posto per 20€ l'ora. Ovviamente la scelta migliore è la seconda perché seppur il tuo guadagno si ridurrà dovrai lavorare molto di meno e avrai più tempo libero che volendo potrai sfruttare per trovare dei modi che ti consentano di ampliare il tuo business. A questo punto potresti pensare di essere in grado di svolgere un lavoro migliore del ragazzo che hai assunto e da poca esperienza nel settore e questo è ciò che pensa la maggior parte dei lavoratori autonomi. Il punto però non è svolgere il lavoro nel modo più minuzioso possibile ma piuttosto nel poter avere molto tempo libero a tua disposizione. Ovviamente se il tuo dipendente non riesce a svolgere il proprio lavoro nel modo corretto potresti optare per sostituirlo con uno più esperto oppure potresti insegnargli personalmente come poter fare ma una volta che lo avrai fatto potrai guadagnare tantissimo tempo libero da dedicare a cose molto più importanti. I miliardari di tutto il mondo fanno esattamente così infatti hanno cuochi e autisti personali non per pigrizia o per sostentare ricchezza ma semplicemente per avere più tempo da dedicare a cose più importanti e soprattutto che gli permettono di guadagnare milioni di euro. In poche parole utilizzano il proprio tempo e le proprie risorse in modo molto più efficace. Ora passiamo all'ultimo importante argomento trattato nel libro. Ti sei mai chiesto per quale motivo moltissimi milionari e miliardari finiscono per andare in depressione e non sentirsi realizzati? Semplicemente queste persone in molti casi hanno troppo tempo libero. So che potrebbe sembrare una contraddizione ed il libro punta a farti guadagnare soldi e tempo libero ma è anche molto importante sapere come utilizzarlo. Infatti quando eliminerai tutte le cose che non ti piacciono fare nel tuo lavoro finirai per avere un grosso buco all'interno delle tue giornate in cui potresti trovarti spaesato e non sapere che fare. Proprio per questo motivo è fondamentale che tu coltivi un hobby come ad esempio un qualsiasi sport in modo da riempire quel vuoto che si formerà all'interno delle tue giornate. Se non sarai in grado di farlo sarà molto meglio che tu continui a lavorare e tenerti impegnato perché altrimenti potresti finire per distruggere lentamente la tua sanità mentale. Sui media ci viene spesso proposto uno stile di vita ideale che ci vedrebbe tutto il giorno a prendere il sole sulla spiaggia ma come detto inizialmente dopo i primi due anni in cui questo stile di vita ti appagherà finirai per annoiarti tantissimo e vorrei fare qualcosa di diverso ma cosa dovresti fartene quindi del tuo tempo libero? Semplicemente dovrai sempre porti degli obiettivi e delle sfide da affrontare. Non è importante quali esse siano potresti imparare a suonare un nuovo strumento o parlare una nuova lingua. L'importante è che tu trovi qualcosa che ti interessi e ti piaccia fare realmente. Potresti anche impiegare parte dei tuoi mezzi per aiutare la tua comunità o migliorare la società in generale due cose che sicuramente ti faranno sentire molto appagato. Impara a fare cose che realmente ti rendono felice e ti fanno emozionare perché ricorda che la vita è solamente una ed è obbligatorio viverla al meglio delle proprie possibilità. Come al solito ti consiglio di leggere il libro per intero perché lo considero molto valido e pieno di informazioni utili ma soprattutto per poterti fare una tua personale opinione del libro e dell'autore. Spero che questo video ti sia stato utile e che possa aiutarti a raggiungere tutti i tuoi obiettivi nella vita. Detto questo, ti ricordo di iscriverti al canale per non perderti i prossimi video di mettere un mi piace per supportare il canale e di lasciare un commento per farmi sapere la tua opinione. Grazie per la visione. Grazie per la visione.